L'ordine della Trinità inseguì il profeta e i suoi discepoli per tutto l'impero, fino allo scontro finale nell'oasi nascosta. Dannazioni, andiamo! Dannazioni, andiamo! C'è stata una battaglia qui. Soldati armati contro pellegrini religiosi. L'ordine della Trinità. Il profeta, ucciso dall'ordine della Trinità. Figlio, l'ordine della Trinità ha saputo che i seguaci del profeta stanno costruendo un'immensa... ...diavolo. Ci è mancato poco. Avanzano forze di esplosione. Quella parete non sembra molto resistente. C'è dell'acqua là dietro. Se riuscissi a distruggere il muro potrei alzare il livello. ... 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 Quindi, ce l'abbiamo fatta. Devo riuscire ad arrivare più in alto. Forse alzando il livello dell'acqua. 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 Grazie a tutti. 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 Mio signore, sono alla guida di un piccolo esercito di fedeli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mio signore, gli ultimi... Grazie a tutti. 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 Buota. Piazza a tutti. Grazie a tutti. Tutto questo tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Via, 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 via. Grazie a tutti.